vai 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 soffi vai da mollare vai vai brava soffi brava 10 e 32 sugli 80 metri grazie babbo adesso devo correre i 100 metri e avrei bisogno delle scarpe nuove non puoi correre gli 80 metri e no corri 100 metri siccome il cambio categoria e le scarpe sono consumate te l'ho appena comprata scusa su scritto bancomat qui trovi lo spazio per il pin si può continuare così dov'è il tuo allenatore giù giù un attimo scusa scusa ho appena richiesto le scarpe ma secondo te dove li trovi i soldi io in giardino c'ho i pozzi di petrolio e lo chiedi a me io sono solo un appassionato volontario cominciamo bene però una cosa è finanziare un'attività che sotto casa che va alla pista si allena una cosa invece è pagare il tour della diamond league ma come tu puoi comprendere c'è il nostro obiettivo è quello di promuovere l'attività sul territorio è la federazione che si occupa dei talenti la federazione la federazione e dove è il presidente? il presidente guarda lì è il presidente e lui? si presidente un attimo ma come possiamo aiutare i talenti? possiamo possiamo realizzare i sogni dei nostri giovani atleti lombardi abbiamo tantissimi giovani di interesse che possono partecipare ai campionati d'europa ai campionati mondiali che ambiscono ai giochi olimpici e quindi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding che si chiama progetto talento fida lombardia dove tutti possono donare per questo obiettivo nei prossimi giorni consegneremo già 17 borse di studio ad alcuni dei nostri migliori giovani atleti ma gli atleti sono tantissimi e quindi se potete sosteneteci vai sulla piattaforma di crowdfunding d'italia ginger cerca progetto talento fida la lombardia e puoi sostenere con quanto vuoi da 5 10 15 euro quanto vuoi una cifra che decidi tu insomma metti la tua firma sul futuro di un campione